La prima è una curiosità, è una di quelle partite che ti piacerebbe giocare? Assolutamente, sono quelle partite dove non si può sbagliare, dove il risultato è determinante quindi è sempre bello giocarle. Com'è l'ambiente? L'ambiente è pronto, l'ambiente è carico, ragazzi hanno voglia di chiudere il discorso salvezza già domenica e di riscattare una brutta prestazione che è quella del derby di lunedì quindi sono convinto che domenica facciamo la prestazione che dobbiamo fare. Non c'è un po' troppo pessimismo, nonostante magari il Parma abbia un vantaggio, forse seppur risicato però ha sempre un vantaggio? Ma più che pessimismo posso dire che c'è un po' di malumore per come arriviamo a questa partita, per questa parte di campionato che abbiamo affrontato, io credo che abbiamo fatto una prima parte di campionato al di sopra le nostre possibilità e la seconda parte al di sotto, quindi se noi avessimo avuto un percorso più lineare saremmo qui tutti entusiasti ad aspettare la gara di domenica per raggiungere una salvezza che poi era l'obiettivo principale di questa squadra. Tu che sei vicino alla squadra, al mister tutti i giorni, come lo vedi da Versa? Come sta? Il mister sta preparando la partita come ha fatto le altre settimane, sappiamo non solo lui e è importante che lo sia per noi ragazzi e cosa ci andiamo a giocare domenica, mi auguro che quando escano al sottopassaggio gli esca il fumo dal naso come ai tori perché domenica non c'è possibilità di sbagliare, domenica è la partita che la metterei al pari di Firenze, di Spezia, la partita determinante, quindi i ragazzi la devono affrontare al massimo le loro possibilità andando sopra i loro limiti e cercando di buttare fuori tutto quello che hanno in corpo. Allo stesso tempo sappiamo che ci sarà grande pubblico, quindi io chiedo alla mia gente, ai nostri tifosi di lasciare per un attimo da parte i malumori, anche se comprensibili e legittimi, ma pensare solamente a riempire Tardini e trasformarlo in una bolgia perché i nostri avversari non devono giocare contro una squadra ma devono giocare contro una città intera domenica perché rimanere in Serie A, dopo tutto il percorso che abbiamo fatto è fondamentale. Prima di Parma Alessandria a Firenze l'hai nominata tu, tu hai fatto un discorso che poi ha fatto il giro del mondo del calcio, cosa dirai domenica a quelli che avrebbero potuto essere i tuoi compagni di squadra e invece sono i tuoi ragazzi adesso? Io di solito vado sempre molto di getto, come è successo quella volta, un mi preparo discorsi, io mi auguro che non ci sia neanche bisogno di dover caricare la squadra perché sicuramente sanno l'importanza di questa partita e sanno che in un modo o in un altro il campionato nostro deve finire domenica, quindi ci stiamo preparando sotto tutti i punti di vista per presentarci pronti e chiudere la pratica. Da capitano a capitano quanto è dispiaciuto Alves di non esserci proprio domenica? Immagino tanto perché queste sono le partite dove giusto appunto ci vuole giocatori di un certo spessore e possono fare la differenza, quindi peccato che non ci sia, però sono convinto che i ragazzi, soprattutto quelli che hanno cominciato questo percorso, magari non dalla D perché non c'è più nessuno, però magari qualcuno che c'era già in Serie C, sa il percorso che abbiamo fatto, cosa abbiamo dovuto sudare per essere dove siamo oggi e quindi sono convinto che tireranno fuori il meglio di quello che hanno. La pelle del giocatore capitano l'hai cambiata in questi mesi o te la senti ancora un po' addosso? Cioè questo tuo nuovo ruolo come si è sviluppato nei mesi? Come ti ha cambiato? Ma diciamo sono ancora in una fase ibrida perché ancora mi sento, come posso dire, il fuoco dentro, quindi diciamo il giocatore che era in me ancora non è andato via. È più difficile da gestire comunque sia la tensione, le emozioni delle parie perché da questa parte non ti sfoghi e quindi devi essere di supporto, supportare gli altri, guardare, confrontarti, però non sei lì in prima fila, questo dopo tanti anni manca onestamente, però si può essere altrettanto importanti all'interno di un gruppo visto che comunque sia le dinamiche, le conosco del calcio e quindi dei gruppi, degli spogliatoi e quindi cerco di dire sempre la parola giusta al momento giusto sia quando c'è da caricare, magari anche quando c'è da tirare le orecchie. E quindi pensi che potrà essere questo anche in futuro il tuo ruolo o sotto sotto magari puoi pensare anche a qualcosa di diverso o di più classico diciamo come può essere un DS, un allenatore? No, no, io credo insomma di fare il mio percorso non devo avere fretta perché comunque sia sai quando fai 20 anni di calciatore poi secondo me l'errore da non fare è quello di avere fretta di trovarsi un ruolo, io credo che già quest'anno mi ha servito, mi devo prendere il mio tempo per capire qual è la mia strada, però la cosa importante per me e più bella e fondamentale è essere qua dentro, lavorare nel Parma, essere nel Parma, poi la possibilità di sviluppare il ruolo me la tengo aperta e non escludo niente perché comunque sto valutando un po' tutto a 360 gradi. L'ultima ferme di momenti difficili ne avete già avuti in questi anni, negli anni scorsi, li avete superati in modo diverso perché le crisi sono tutte diverse, c'è una chiave di lettura un messaggio però comune che può aiutare la squadra a leggere anche questo momento? Ma no, io credo che la squadra, per me esiste solo domenica, cioè la squadra deve resettare tutto quello che è stato fino a lunedì e pensare solamente a domenica, domenica come ripeto è la partita, domenica abbiamo possibilità di garantirci la Serie A che era il nostro obiettivo stagionale e dobbiamo pensare solo a quello, tutto quello che possono essere stati gli errori, magari anche le mancanze, non lo so, sia a livello della squadra oppure anche di noi della società, lo valuteremo a bocce ferme ma è importante valutarlo con la Serie A in tasca, quindi la cosa fondamentale è portare a casa il risultato domenica. Di fronte ci sarà una squadra che più o meno non dico sia arrabbiata come il Parma ma si gioca tanto come il Parma, che partita sarà, che partita d'aspetti, tu tra l'altro comunque conosci anche quella piazza? Sì, onestamente non mi interessa cosa pensa la Fiorentina che dai hanno, cosa vogliono fare, per mesi stiamo solo noi in questa partita, noi e la nostra gente e quindi indipendentemente da chi abbiamo davanti e in che modo li incontriamo, noi dobbiamo pensare solamente a portar a casa risultati, tutto quello che va oltre ci toglie solo delle energie, magari pensare anche a cosa fa l'Empoli, a cosa fa il Genoa sabato, tutte queste cose ci distorgono solamente da quello che dobbiamo fare noi, perché siamo noi che dobbiamo conquistare la salvezza, noi che dobbiamo andare in campo e noi che ce la porteremo a casa, se aspettiamo e forse magari incosciamente, questo errore nelle domeniche precedenti abbiamo fatto, che ci salvino gli altri perché non fanno risultati e perdiamo di vista quello che dobbiamo fare noi.